Una manifestazione che raduna persone fortemente contrarie alle misure anti-Covid come il Green Pass. Avvocato, ci sarà anche lei, rappresentanza del Comitato Salute e Diritti a Scuola Marche. Dunque una protesta che continua. Sì, esatto. La protesta continua, una protesta sempre e comunque pacifica per il riconoscimento dei diritti costituzionali che in quest'ultimo periodo vengono mano a mano violati in tante forme diverse. Diritti che cercano di essere anche tutelati con le battaglie portate avanti dal Comitato? Assolutamente sì. Noi come Comitato siamo vicini soprattutto ai genitori, agli studenti, agli alunni delle nostre scuole. Stiamo mettendo in atto delle azioni proprio a tutela del diritto fondamentale all'istruzione ma anche a quello dell'inclusione e della parità all'interno degli istituti scolastici. Abbiamo svolto tante attività in passato e ci stiamo già organizzando per nuove attività. L'ultima è quella del Vademecum, cioè un insieme di risposte a tanti dubbi che i genitori hanno per affrontare quotidianamente la vita all'interno delle scuole. Sabato dove e a che ora si svolgerà l'iniziativa? L'iniziativa è organizzata nel capoluogo, in Ancona, in Piazza Roma, dalle ore 15 e 30. E chi saranno i relatori? Beh, oltre alla sottoscritta abbiamo anche dei personaggi di caratura nazionale come l'Avvocato Fusillo e il Dottor Scoglio. Ci saranno anche altre manifestazioni di questo tipo nei prossimi giorni? Credo proprio di sì perché la protesta continua, è una protesta di civiltà prima di tutto, da persone che sono libere e si aggregano senza nessuna bandiera politica per un fine unico che è quello della libertà.